Bene ragazzi, qui Epic's Gamer. Allora ragazzi, io nei video precedenti di ieri e l'altro ieri dissi su Alland che dovrebbe essere, dovrebbe essere a breve l'ufficialità perché si stavano discutendo Paratici e Raiola sulle commissioni e sull'ingaggio del giocatore. Non ho detto, Alland è ufficiale, un giocatore della Juve. Se avete ascoltato bene il video, andatelo a rivedere. Adesso, mentre stavo vedendo su Sky il film Creed 2, quello di Rocky Balboa, il figlio di Apollo Creed, che ha spezzato in due il figlio di Drago, grande film. Un'ora fa ho letto la notizia a Alland, ufficiale, nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Io pensavo che era una trollata, invece è ufficiale. E io dico una cosa, perché poi tra poco siamo in live ragazzi con i malati zebrati, perché ho mandato un messaggio a Marco sul telefono e mi fa tra poco siamo in live. E io gli ho risposto, ok, ci vediamo dopo. Mi raccomando, seguitela, perché adesso io non ne ho, per Paratici non ne ho più, non ne ho più. E io dico una cosa, secondo me Paratici deve avere la dignità, la dignità di dare le dimissioni e andare fuori dai coglioni. Perché è lui, è stato ed è l'artefice del disastro che si sta creando da quest'estate fino ad adesso. Ma è possibile che questo qua non è in grado di comprare un giocatore? È possibile che questo non è in grado di chiudere una trattativa? È possibile che uno non è in grado di vendere un giocatore? Sì, vabbè, è ufficiale Pier Perin al Genova, in manzo che c'è in Qatar, sopra anch'io ragazzi. Cioè, questo giocatore ormai avrebbe un'ufficialità e se l'è fatto sfuggire così. Questo è Paratici ragazzi. Paratici ha fallito come imprenditore e sta fallendo come direttore sportivo. Perché come direttore sportivo, da quando è andato via Marotta ragazzi, e aprite il cervello e non difendete la società ogni volta. Come ieri sera che uno in live ha detto che la Juve, con il centrocampo attuale, la Juve vince la Champions. Ma che cazzo, ma dove cazzo stiamo arrivando? Ma dove cazzo stiamo arrivando? Voi quando parlate purtroppo non azionate il cervello. E non pensate a quello che sta accadendo veramente in questa società. Cioè, il disastro in società non si sta capendo più nulla e non sanno più che cazzo devono combinare. E poi c'è la gente che difende la società, direttore sportivo. Cioè ragazzi, io sono da quest'estate che lo dico che questo è l'incapace. E da quest'estate, il presidente Agnelli, invece di stringere accordi con partnership, Coca-Cola, sponsor della sinistra. Cioè, che apri gli occhi, signor presidente. Presidente, apri gli occhi, sbattilo fuori il calcio nel coglione a questo scemo qua. Questo non vale un cazzo. Sta combinando disastri su disastri. E ragazzi, se non è riuscito a prendere un 19enne come Alland, eh? Che secondo me la Juve non serve. Però, per fare fiatare uno dei quattro attaccanti, secondo me, era da prendere. E lasciamo stare 30 milioni. Cioè, ragazzi, secondo me, questo è un direttore sportivo. Non comprerà nessuno, perché non è in grado, non è capace. Ci vuole un direttore sportivo che abbia i coglioni. E noi, purtroppo, non lo abbiamo. Abbiamo un direttore sportivo che sta facendo cazzate su cazzate. Sta creando problemi su problemi. E questi sono i risultati. Alland è ufficiale a Borussia Dortmund. Cosa vuol dire? Che questo, il direttore sportivo, non è capace di fare il suo lavoro. E io lo dico da quest'estate. E voi pensate che Pogba arrivi. Questo non è neanche in grado di piazzare Moscardelli. Questo non è neanche in grado di coprire Moscardelli. Cioè, ragazzi, cioè, veramente... E io dico una cosa. Io spero, ma tanto non accadrà, che esca il coniglio dal cilindro. Parati, ci faccio uscire il coniglio dal cilindro. Perché io penso che non arriverà... Secondo me arriverà solo Paredes e basta. E l'ho detto. Se Paredes è il giocatore che era alla Roma, lo vado a prendere io in aeroporto. Perché la Roma è stata costretta a venderlo a quel giocatore. Contro la sua volontà, se ricordate bene. Ma secondo me, ragazzi, non arriverà nessuno. Non arriverà nessuno. Arriverà solo Paredes. Se arriverà Paredes. Se arriverà Paredes. A me ci sono notizie su Paredes, poi ad altri non risulta problemi loro. A me risultano notizie su Paredes che questa trattativa è confermata e sta andando in porto. Quindi, ragazzi, io... Io non so più che dire su Paratici. Ripeto, secondo me deve avere la dignità di dare le dimissioni e fare le valigie e andare via. Perché è un incompetente. Seguite la Biale, è un incompetente. E scrivetemi qui sotto nei commenti Paratici Out. Paratici Out. E Agnelli, svegliati. Perché questo è un incompetente. Questo non è capace di fare il dettore sportivo. E ti devi svegliare. Apri gli occhi e caccialo fuori a calcino i coglioni. Caccialo. Lo devi cacciare. Sta creando disastri su disastri. Io spero che questo messaggio sia recepito anche a quei leccaculo che difendono la società. Quindi, ragazzi, ci vediamo tra poco in live con i malati. Iscrizione al canale. Mi raccomando, iscrizione al canale. Fino alla fine, forza Juventus. E io ho detto, e guardatevi video, che Alland starebbe di perdimentare un giocatore della Juve. Non è ufficiale un giocatore della Juve. Quindi, io vi saluto e ci vediamo tra poco in live. Bella.